No, grazie, avete sbagliato il ristorante. La riflessione che abbiamo fatto è che la speranza c'è, ma è una traversata lunga di una foresta anche dove bisognerà usare il maccete e qualche serpente e altro animaletto pericoloso in giro. C'è, danni creati da 20-30 anni di malgoverno non si risolvono, mi dispiace, in 4-4-8. Questa operazione verità, pubblicità progresso, verità meglio, chiariamo. Vabbè, a questa situazione noi proviamo a reagire dicendo fondamentalmente una cosa che è il punto di partenza un po' fondamentale e che risponde anche alle domande che sentivo fare sul cosa facciamo nel breve periodo. Noi pensiamo che una buona parte della responsabilità di questo sia nella classe politica che questo Paese si è dato e quindi anche la responsabilità sta nel Paese. E che ha sgovernato il Paese da destra e da sinistra in modo pessimo negli ultimi vent'anni, oserei dire, in modo forse addirittura peggiore, se possibile, di quella che l'ha preceduta. Anche perché poi, fra le due, se uno ben guarda, c'è una sovrapposizione, un'identità sostanziale. Alla fine, più di uno ha una grande quantità dei politici che oggi governano il Paese o riempiono il Parlamento, ha le sue radici e comincia a fare attività politica ben prima del 94. Allora, di fronte al riconoscimento che costoro hanno fallito, e hanno fallito in maniera abbastanza uniforme, alcuni hanno fatto obiettivamente più danni di altri, ma non è lì il punto. Noi pensiamo che il punto di partenza debba essere uno sforzo da parte dei cittadini, di chi dalla politica è fuori e forse la sta subendo. Da chi in questi anni, progressivamente, ha rinunciato a votare, ha rinunciato a partecipare perché non trovava un contenitore, un veicolo, un canale per esprimere il proprio punto di vista, per soddisfare i propri interessi, per perseguire i propri bisogni. Pensiamo che quella gente lì, di cui credo a voi che siete qua in sala e le centinaia, migliaia che andiamo incontrando siete buona parte, debba fare uno sforzo in prima persona. Cioè debba capire che non è più sufficiente delegare, anzi delegare a politici di professione, a entità organizzate su piano ideologico che vengono a proporsi, dà a me la tua fiducia, io risolvo i tuoi problemi, e mi dispiace la strada sbagliata. Francamente è la maniera, se ci pensate, con cui la società civile italiana si è autorassicurata e ha pensato di trovare rapidamente una soluzione dopo la crisi del 92-94. Non voglio fare la solita tiritera su Berlusconi da un lato e poi la creazione del PD dall'altro, ma lì, se voi guardate, c'è un momento in cui un certo sistema politico va profondamente in crisi, mostra la sua radice corrotta, la sua incapacità di gestire il paese, perché non scordiamoci, non ci fu solo mani pulite in quegli anni, ci fu la crisi, la svalutazione della lira, l'espropriazione del vostro conto corrente notturno, il debito pubblico a notturnamento, scusate, non è che il vostro conto corrente fosse notturno, l'espropriazione avvenne di notte, a mano non armata ma lesta. Ci fu quindi un manifestarsi di una crisi economica simile a questa, meno grave, questa è peggio, questa è la stessa cosa, aggravata, la famosa influenza seria che si trasforma in brocco polmonite galoppante, perché trascurata. Bene, quale fu la reazione, io credo, un po' da Struzzo che mette la testa nella sabbia della società civile? Lo dico seriamente, anche puntando un po' il ditino, fu di dire, ma sì, insomma, la situazione, com'è la battuta del comico? È grave però non seria, o seria però non grave, una cosa del genere, no? Vabbè, insomma, c'è Berlusconi da un lato che promette rose e fiori, il milione di posti di lavoro, il paradiso in terra, lui è bello, è successo, ha le televisioni, le veline, le velone, le velacce, e vabbè, dai, fidiamoci che non stiamo lì adesso a cincischiare, perché perché porsi in prima persona il problema di perché diavolo siamo arrivati in questa situazione? Sto parlando 93-94. E dall'altra, chi aveva orientamenti ideologici, chiamiamoli così, di sinistra, c'era il famoso, meravigliosa macchina da guerra, gioiosa macchina rampante, volante, eccetera, che avrebbe risolto tutti i problemi tassando e ridistribuendo. Quindi da un lato uno prometteva il paradiso in terra, avrebbe tagliato le tasse, però dato pane e compagnatico a tutti, quell'altro il rovescio, e non successe nessuna delle due cose. No, no, una cosa è successo, tassarono entrambi, quello sì, e riuscirono anche a spenderli, no? Ma la mente, sembra, perché la Salerno-Reggio Calabria, che io sappia, non l'hanno finita, ed era già in corso d'opera. E mi sembra che la condizione economica degli italiani che lavorano non sia migliorata. Ecco, il primo invito da fare è, per favore, società italiana che lavora, che produce, rifletteteci su questa esperienza, riflettiamoci, non rifacciamo quell'errore. Non pensiamo che ci sia una rapida soluzione alla situazione in cui ci troviamo, che consiste nel mandare al governo, ora quando verrà marzo, se la data di marzo verrà confermata, un qualche uomo nuovo, simbolico e miracoloso, o un qualche raggruppamento nuovo di discesa esterna, non scelto da voi, ma in qualche maniera offertovi mediaticamente da un lato o dall'altro, a seconda delle vostre preferenze ideologiche, e poi vabbè, è finita, adesso questo è giusto a tutto. No, no, proprio, guardate, no, per favore, no. Affermare il declino nasce da questa consapevolezza, e nasce, non appunto, ripeto di nuovo, perché noi si pensi di avere in tasca le lesie di longa vita, ma perché si pensa di avere però, si capito, questa piccola verità, triste ma vera, che vi ho appena detto, e cioè che tocca a voi. Ed è quindi un invito anzitutto a voi, voi nel senso di, ma avete capito, la gente che lavora e produce, si impegna, a farvi politica, magari protempore, anzi sperabilmente protempore, perché uno dei punti di fondo è che in una società articolata, moderna, avanzata, in cui contano gli specialismi, contano le conoscenze, per essere produttivi bisogna saper fare le cose, e le cose alcune sono complicate. Il tuttologo chiacchierone ideologico che viene continuamente con la bandiera levata di un simbolo dell'altro a fare grandi chiacchiere, come diceva il buon vecchio Giannacci, credo, lui lo riferiva al Mirante, voto al Mirante perché sparla bene, ma voi sostituite al Mirante il vostro politico preferito o spreferito e vi sale uguale. L'atteggiamento è voto quello perché fa dei bei comizi, perché dice queste cose roboanti, perché... No! Voto quello perché mi ha promesso che sa aggiustare il carburatore, ed è il carburatore che devo aggiustare, lo devo cambiare, devo pulire il filtro, e ciò evidenza che sa pulire i maledetti filtri, e mi ha pure promesso quanto mi costa e che quando ha finito di cambiare il carburatore e pulire il filtro se la torna a casa. Perché si può fare, non è vietato. Questo non vuol dire che magari qualcuno che è particolarmente bravo lo tengo lì per tre, quattro legislature, per carità, però voglio costruire un sistema nel quale giudico costoro da quello che fanno e non secondo criteri ideologici, non che continuo a rivotarlo perché è dei miei comunque. E c'è la bandierina del mio colore preferito alzata. Perché questo è ciò che ci ha condotto a questa situazione, in cui abbiamo continuato a votare e a riprodurre partiti perché c'era una forma di appartenenza ideologica nella stessa maniera che a me piace l'Inter, anche se non mi ricordo nemmeno, non so la formazione più, però mi ricordo Sarti, Burnici, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, eccetera, di quando avevo otto anni. Ecco, non è il calcio la politica. Il calcio va anche benissimo credere in Sarti, Burnici, Facchetti, no? Perché, vabbè, alla fine, è un divertimento. La politica no, la politica è quella che decide delle vostre strade, delle vostre scuole, delle vostre tasse, delle vostre imprese, dei contratti di lavoro, di tutto. E quindi deve essere una cosa che mettiamo in mano a della gente che controlliamo, di cui ci fidiamo e di cui abbiamo evidenza che le sa fare le cose, non degli incompetenti che si autoproclamano premi Nobel e poi dopo tre anni di direzione della pubblica amministrazione non hanno nemmeno cominciato a capire come funziona l'impiego pubblico e hanno fatto solo danni. Questo no. Questo è il punto di partenza. Quindi noi questo abbiamo messo nero su bianco, invitando la gente a muoversi e sperando che dalla società civile italiana nascano, ci siano, spuntino, movimenti, aggregazioni di forze sociali che siano disposti a unirsi su una piattaforma fondamentalmente pragmatica, quindi assolutamente non ideologica. Se la gente mi chiede se siamo di destra o di sinistra io rispondo che siamo di sopra e cerchiamo di esserci sempre di più battendo un po' magari le ali con un po' di sforzo, ma insomma cercando di mantenerci a galla sopra questa sciocca, inutile, dannosa, diatriba ideologica che fa solo danni. Alcune cose abbiamo provato a mettere nero su bianco, secondo noi cosa c'è da fare? Sono le cose più urgenti, più drammatiche, ma non sono delle cose, sia chiaro, ripeto, anche nell'ipotesi così comica che noi si vinca al 95%, non è che poi tra marzo del 2013 e novembre le facciamo tutte. È una prospettiva di governo quinquennale, forse decennale, di cambi veri che vanno fatti in questo Paese, ve li lascio leggere, non mi soffermo su di essi, ma poi magari nelle domande e risposte, se volete, ne dibattiamo, che sono da un lato senso comune, perché se ne va discutendo da anni, dall'altro toccano interessi e privilegi costituiti, e per quello probabilmente non sono mai stati toccati, ma dall'altro ancora richiedono a ognuno di noi, anche da chi ne verrà immediatamente avvantaggiato, di fare uno sforzo di cambiamento di comportamento e di atteggiamento nel suo modo di essere cittadino e lavoratore. Perché alcuni cambi, che so, di eliminare la cassa integrazione, di introdurre dei sussidi di disoccupazione per tutti, richiedono anche un mettersi nel mercato del lavoro diverso da quello che abbiamo ora, e questo vale per tutti. Ovviamente questo avvantaggerà alcuni, io credo la grande massa dei lavoratori non protetti, dei lavoratori non nel settore protetto, e soprattutto i giovani, le donne, eccetera, che da strumenti come la cassa integrazione non ricevono protezione e mancano invece ad un sussidio decente di disoccupazione, però richiede anche a loro un atteggiamento sul mercato del lavoro di flessibilità, di comprensione del fatto che se un lavoro se ne va, te ne puoi trovare un altro, c'è il sussidio di disoccupazione in mezzo, ti aiuta magari a trasferirti, eccetera. Quindi richiedono un periodo di tempo per potersi dispiegare e attuare che non è i sei mesi, perché vedo in molti incontri, molte persone insistono, io ne capisco la drammaticità, insistono sul fatto che qua bisogna fare qualcosa in sei mesi, e la risposta è sì, ma quello che possiamo fare in sei mesi è tirare il freno, fermarlo un attimo, il processo di declino, mettere la retromarcia per girarsi e fare l'inversione EU e cominciarla, poi c'è una lunga strada in salita da fare e non dura sei mesi, sia chiaro. Ed è la ragione per cui questo movimento che abbiamo creato, se riesce a crescere, allargarsi, a trarre altre forze, noi speriamo continui a durare. Io e gli altri, io credo siamo qui per dare il nostro contributo, ma il nostro contributo ha valore nella misura in quale c'è il vostro. Noi vogliamo che la faccia ce la mettiate voi, ce la mettono i cittadini italiani, io la mia sto mettendo, sono qua infatti anche un po' logorata, perché dopo settimane di quattro ore, cinque ore di sonno a notte, con il letto che cambia praticamente tutte le notti, sono un po' consumadillo, mi sento un po' stanchino. Però vabbè, andiamo avanti, Natale arriverà, lì ci prendiamo un po' di riposo e quindi poi, però adesso è il momento che nascano i comitati, la gente ci metta a che cosa. Quindi per costruirlo, questo movimento, per far, insisto, aggregare forze sociali, gruppi professionali, i giovani, per dialogare con altre forze che ci sono lì, per dialogare io credo personalmente soprattutto con persone che partono, sembrano reagire agli stessi problemi a cui reagiamo noi, che accettano di riconoscere che il paese è in una situazione drammatica, lo è da anni, che ha bisogno di una svolta radicale nelle politiche che si fanno e nei modi con cui si fanno, che ritiene che questa classe politica ha fallito e che ci si differenzia da noi, io credo, perché dà purtroppo una risposta troppo facile, troppo facilona troppo arrabbiata, troppo incazzata, troppo autodistruttiva, ha i problemi che abbiamo davanti, poco matura, e mi riferisco al Movimento 5 Stelle in particolare, ma cose simili che nascono anche a livello locale, eccetera. Io credo che, e non è a caso che stia crescendo con questa rapidità, con questa forza, quando noi guardiamo i risultati come le elezioni siciliane, se la Sicilia è una predizione di cos'è l'Italia, siamo in una situazione di delegittimazione totale del sistema politico e partitico attuale. Di fatto, il 70% dei cittadini siciliani ha detto no al complesso dei partiti. E il signore, anche divertente, ma sono sicuro che è una brava persona, ma che si appresta a tentare di governare la Sicilia, ha il supporto di un siciliano su otto, mentre gli altri sette gli hanno detto picche. Ora, voi capite che quando c'è un livello di delegittimazione tale, nessuno, anche il migliore intenzionato, può far nulla. Tu non puoi riformare seriamente un paese quando sette persone su otto ti hanno detto no. È chiaro che il più ha il diritto, il potere, la legittimità di fare l'ordinaria amministrazione, speriamo non rubacchiando, ma non vai oltre, il paese ha bisogno di altra cosa. Quindi qui c'è un problema drammatico che di sicuro non possiamo risolvere solo noi, ma noi ci mettiamo la nostra parte e vediamo qualcun altro pure. Ed è quello di ricostruire partiti, movimenti, forze politiche, metodi di far politica che ridiano alla gente, all'italiano medio, a quei sette su otto, il senso che la politica allo Stato gli appartiene, roba loro, se la possono gestire loro, si fidano di quelli che sono lì e quindi quelli che sono lì possono anche prendere provvedimenti di non ordinare amministrazione. Altrimenti non ne usciamo. Voi capite questo? Cioè questo è il problema veramente fondamentale che bisogna capire. da questa situazione non si esce con piccoli rammendi, con rimedi così facili e temporanei. Se ne esce solo con alcuni cambiamenti radicali. E ripeto, nelle proposte che abbiamo fatto li indichiamo, ce ne parliamo. Perché vi siano dei cambiamenti radicali occorre che chi li mette in moto, chi li attua, la classe politica, abbia un rapporto di confidenza e di appartenenza con chi quei provvedimenti poi li deve subire o utilizzare o esserne oggetto. Cioè la società civile. Poiché così non è, è assolutamente necessario che si creino delle altre forze politiche. Io capite, il ragionamento è semplicissimo. Ho bisogno di un dottore nuovo che faccia un taglio drastico e mi cambi un paio di organi. Questo qua è un maniscalco di cui non mi fido ho bisogno di un paio di dottori nuovi altrimenti mi tengo i miei dolori di stomaco perché è meglio così che farsi mettere le mani addosso da uno che magari ha a confondere l'appendicite con il fegato. Ok? Questa è la situazione italiana. Quindi da questo nasce questo movimento. Abbiamo ricevuto un appoggio come le sale piene in situazioni di domenica, sabato mattina e quindi proviamo ad andare avanti. Come? Noi cercheremo e stiamo facendo tutto il possibile per essere presenti a queste elezioni. Purtroppo ci troviamo in una situazione in cui ed è un altro sintomo di quanto lontana da noi e con dispregio ci tratti questa classe politica. A tre mesi praticamente a poco più di tre mesi dalla data delle elezioni non siamo uno certi che la data sia quella sta ancora facendo però due non sappiamo con che regole andremo a votare. Come cittadini contiamo così poco siamo un tal nulla che se ci volessimo organizzare costoro consapevoli che una buona metà della popolazione non li vuole votare e che quindi sta cercando di organizzarsi da sola io credo il minimo di legittimità in una società liberale democratica proprio per paura di questo non ci vogliono dire che regole dovremmo utilizzare. A mio avviso questo è sufficiente per mandarli tutti a casa anche senza tutto il resto perché è un atto di tal dispregio di atteggiamento signorile nei confronti dei sudditi che è insultante. Bene quindi dipendentemente dalle regole cercheremo di organizzarci questa è la mia risposta oggi se le regole permetteranno di presentarci in una maniera decente se troveremo delle persone che siano persone che siano organizzazioni che la pensano come noi hanno una prospettiva simile con cui unirci benvenuti se non li troveremo proveremo a vedere se ce la facciamo con le forze che voi ci date e qui voglio cercare di spiegarmi cosa vuol dire perché sento dire ma andrete da soli ma da soli chi? non siamo un partito da soli siamo oggi siamo 140 non so 150 mi sento meno solo di prima da soli dipende da quanti saremo nessuno vuole andare da solo infatti nessuno ha l'obiettivo di fare il micropartito perché per definizione il micropartito è una cosa che ha perso quindi se per caso faccio il micropartito se provo a fare la torta e non li evita ho fallito la butto via e dico ho fallito la società italiana ha certi temi certi messaggi certe cose non le voleva sentire non le voleva fare però ci devo provare però ci devo provare e quindi quello che sto provando a dire non è che voglio andare da solo puro e duro o voglio andare in compagnia a un bel rassemblement in cui ci confondiamo tutti e diventa la famosa notte in cui tutte le vacche sono bige voglio vedere quanta gente c'è che venga individualmente che venga attraverso organizzazioni per esistenti che è disposta a fare quelle minime cose che ho messo giù che abbiamo messo giù non le vogliono far tutte va benissimo che facciamo l'ottanta per cento il settanta il cinquattuno però almeno sì perché se no intuitivamente deve essere qualcosa che indica un cambiamento perché se il cambiamento non c'è se almeno il segnale del cambiamento vero non c'è allora non vale la pena e quindi in particolare uno dei criteri che io personalmente pongo di fronte è che non voglio non me la sento di apparentarmi non mi sembra un tradimento per iniziare la strada apparentarmi unirmi con partiti esistenti di quelli che sono responsabili del declino e fare la mucchiata di politici stagionati rispetto ai quali e mi rendo conto l'abbiamo anche scritto non è che tutti siano ugualmente responsabili di questo disastro è ovvio io credo nella responsabilità individuale ed è ovvio che vi sono responsabilità individuali maggiori di altre però è anche ovvio che i pentimenti dell'ultimo ora voi mi vorrete scusare sono un po' sospetti magari sono sinceri però se sono sinceri io credo che provino ad essere tali cioè se sono pensamenti sinceri se si rese conto all'ultimo momento che davvero se ci si era confusi se era sbagliato si pensava che quella persona quell'organizzazione quella politica servisse invece poi si è realizzato che no che non va bene lo si provi lo si provi come ci insegnavano i ragazzini non solo dicendo un paterave gloria ma anche facendo la penitenza vera saltando la nutella per una settimana niente nutella per una settimana Mario no mamma ma dai ho chiesto scusa no niente nutella per una settimana che nel caso concreto vuol dire niente potere per un po' sono ovviamente benvenuti a contribuire il politico che ha capito che questo sistema non funziona che quel partito dove stava non andava al lato giusto e però pensa di avere idee conoscenze capacità organizzative da contribuire è dal mio punto di vista assolutamente benvenuto come aderente come militante che aiuta contribuisce se arriva come leader designato mi dovrà scusare ma mi ricordo la mamma che dice Michele niente nutella stasettimana e non c'è più la nutella chi usa nella credenza la chiave in tasca questo è il mio semplice semplice punto di vista che poi si tratterà di gestire lo gestirete voi lo gestiranno i comitati la gente che aderisce che cercherà di organizzare le liste con intelligenza con senso comune con decenza a livello locale perché ogni caso è un caso e va considerato per sé senza follie isteriche senza mettere nessuno alla gogna ma senza neanche questo buonismo no vabbè scordammo ci ho passato no delle volte ho passato come la mamma mi insegnava per un po' te lo devi non scordare perché così impari la lezione altrimenti è troppo facile ego ti absolvo ad ogni piesso spinto e porta alle conseguenze quindi questo è il punto di vista che io ho in questa prospettiva ed è un punto di vista mobile nel senso che se io verifico fra tre settimane perché poi ormai siamo qui bisogna cominciare a farle le cose se vogliamo essere presenti alle elezioni che la forza non c'è che la partecipazione popolare non c'è che il supporto non c'è che le firme non ci sono preparatevi per presentare le liste bisogna andare a fare delle firme belle autenticate richiederà del tempo lo annuncio cioè ci vuole metterci la faccia toccate vuol dire anche questo anzitutto questo se verifichiamo che questa capacità non c'è diremmo vabbè ci siamo sbagliati peccato per il mio paese perché ancora il mio paese almeno al 51% ho due passaporti però il primo è quello italiano anche se ormai ho vissuto più anni fuori che dentro però parlo comunque meglio l'italiano e l'inglese non me la cavo male in inglese però mi sento ancora mi sono sbagliato ho riposto la speranza nel momento sbagliato evidentemente non era il momento giusto non avevo io la proposta giusta ho fatto l'analisi sbagliata ai miei amici con cittadini italiani non andava bene fare quella cosa ho speso non buttato io ho conosciuto centinaia di persone interessanti simpatiche e di grande valore in giro per il paese ho visto posti che prima non avevo visto come fermo o pesero ieri e vabbè insomma il libro non l'ho scritto sono in sabbatico dalla mia università dovevo scrivere un libro anzi dovevo scrivere tre il primo se ne è andato di sicuro perché quattro mesi di sta roba quello via dalla finestra e vabbè scriverò gli altri due va benissimo non è un dramma io spero che non succeda e spero davvero che io possa dire quando verrà io non mi devo candidare perché c'è gente brava a sufficienza che non c'è necessità di me ed è mio profondo desiderio che così avvenga mi piace essere il lievito ma non la crosta la crosta mi ha sempre messo un po' d'imbarazzo non mi piacciono gli applausi mi piacciono le no preferisco ragionare penso di avere delle idee delle cose da proporvi sono disposto anche a cambiarle se mi spiegate che sono sbagliate e sono assolutamente convinto che tocca a voi per favore metteteci la faccia grazie allora io avevo fatto avevo dimenticato non avevo fatto la presentazione accademica di Michele però diciamo che è uno dei maggiori economisti e con un curriculum soprattutto negli Stati Uniti ha girato molte università e fra l'altro è direttore anche di una fondazione in Spagna della Fedeasa che è una fondazione di scuola di ricerca economica e sociali e i suoi contributi accademici sono molto importanti specialmente gli ultimi sui la proprietà intellettuale sui brevetti diritti e via dicendo comunque chiusa la parentesi gradirei che il pubblico ponesse delle domande e intervenisse c'è un gelato come lo chiamano ecco ecco il gelatino prego io sento non so se i signori però senti perché così c'è lo streaming e arriva arriva su quest'ultimo punto del lievito che ha detto adesso io credo che un comitato o un movimento abbia bisogno di lievitare darsi come obiettivo una unica scadenza che è quella di marzo non può essere riduttivo magari sotto c'è materiale ma il lievito non ha ancora funzionato e arriviamo a marzo che magari sotto c'è della roba buona ma il lievito ancora non ha funzionato quindi arriviamo arriviamo corti magari questo si potrebbe sviluppare per dicembre del 2013 anche se poi alle elezioni non c'è niente guardi come gli inglesi o gli americani dicono c'è questo famoso romanzo novella Catch 22 no? non so come sia dovuto in italiano comma 22 questa è un po' la situazione no? Dumb if you do dumb if you don't hai torto comunque nel senso che il trade off oh madonna è solo l'inglese scusate vedete perché è meglio che la faccia la mettete voi anche la voce un comizio pubblico metta in inglese ma questo è scemo vabbè insomma il problema che lei pone è reale ed è drammatico e non ha una soluzione ovvia ha una soluzione empirica per quello io dico allarghiamoci contiamoci contate vediamo quanti riusciamo ad essere perché il rischio che lei indica è vero è reale cioè è perfettamente possibile che pur l'idea essendo buona si sia troppo pochi non si sia cresciuti ancora non si sia riusciti a organizzare ma infatti è una guerra contro il tempo guardi che io sono assolutamente quando insomma questa idea mi frulla nel cervello almeno a me da un pezzo con le riflessioni sul blog che Aldo menzionava ti sto cambiando il nome perché Andrea è una riflessione che facciamo da tempo e da tempo ci stavo pensando però non ho mai pensato che uscirsene con un appello autofinanziato di sette signori fondamentalmente sconosciuti al grande pubblico a parte Oscar che ha il programma radio un'attività pubblicistica ampia noi gli altri sei insomma sono sicuro che a parte Marco Boleo che è un vecchio amico e Sabino nessuno sapeva chi eravamo uno può essere economista di fama mondiale però poi in realtà lo conosco in 32 i 32 che fanno quello che fa lui uno al polo nord uno al polo sud uno in Giappone uno in Cina però a 32 sono e quindi immaginarmi che sta roba avesse questo tipo di risultato e che valesse la pena porsi il problema delle elezioni del 2013 francamente no non me lo immaginavo quindi io pensavo a far partire un movimento culturale d'opinione politica che potesse un giorno produrre un partito politico ma certo non con questa rapidità poi sa cosa vuole è della serie hai voluto la bicicletta pedala perché poi la gente aderisce con più entusiasmo di quello che pensavi e